E ciao a tutti amici, oggi torniamo a Bluff Title perché un amico sul canale mi ha detto che guardando un mio vecchio tutorial non riusciva a inserire delle scritte all'interno di una pagina. Questo è un esempio, una pagina con tanto anche di anelli e buchi sulla pagina e poi se facciamo partire l'animazione vediamo che la scritta è proprio agganciata, lo possiamo anche fare manuale andando a prendere la pagina e ruotandola. Vedete è una cosa molto simpatica, Bluff Title è fatto proprio per questo, per rendere più o meno semplici le cose. Io vi ricordo che dedico del tempo a voi, questa animazione la troveranno gli abbonati nella sezione Bluff Title di Mega, così molto semplice e già pronta per poter sperimentare e da qua creare altre animazioni. Quindi invito anche l'amico ad abbonarsi al canale, è un costo relativamente basso perché sono meno di 2 euro al mese, sono 1,99 euro al mese, ci si può abbonare anche solo per un mese, usufruire di tutti i contenuti e eventualmente anche togliersi e disiscriversi il mese dopo. Per cui magari aiutatemi e troverete contenuti già pronti, altrimenti seguite questo tutorial e realizzate anche voi questa cosa che da una parte è semplice e però ha qualche passaggio magari un po' più problematico. Vediamo come si realizza questo, allora vado a resettare tutto e innanzitutto dobbiamo partire da un'immagine. L'immagine per andare bene non deve essere quadrata, non deve essere rettangolare ma deve essere in verticale. Questo perché? Perché in questa maniera se volete realizzare una pagina e se volete fare un album con una pagina quadrata potete farlo pure. Quindi vado a aprire un'immagine cliccando qui e io ho realizzato per voi questa pagina con le righe, è semplicemente fatta con Affinity Design. Vedete? Ecco adesso qua è abbastanza chiara, possiamo spostare un po' la luce, ecco vedete che ha delle righe sottilissime su una pagina giallina. Adesso realizzare la pagina è semplicissimo perché c'è già un effetto pronto per Bluff Title, anche se sarebbe già una pagina. Ma se vogliamo aggiungerci buchi, stondare la pagina. Quindi clicchiamo sulla nostra pagina e andiamo ad aggiungere l'effetto. Clicchiamo qui. L'effetto si trova dentro questa cartella, cioè sul vostro disco C dove installate il programma Program File, Outer Space, Poi troviamo la cartella di Bluff Title, all'interno della quale c'è Media, c'è la cartella Effetti, Effect e Picture perché sono tutti gli effetti relativi alle immagini. E troviamo questo effetto Double Side, cioè doppia faccia. Clicchiamo due volte, vedete che anche proprio rappresenta un quaderno, un libretto. Ok, non vediamo nessuna differenza, ma se clicchiamo qui, vedrete che avremo tutti questi comandi con scritto FX che prima non c'erano. Il primo comando che andiamo ad aggiungere, se ci piace ovviamente, è l'ultimo Page Corner Radius che va ad aggiungere un angolo smussato alla nostra pagina. Solo da una parte, vedete, simula un po' un notice e qua decidete voi se vi piace, se lo volete o no, a me piace un pochino così arrotondarlo. Come vedete è solo da un lato. E un'altra cosa, dobbiamo andare a regolare Page All Radius, cioè la dimensione dei buchi della pagina. Anche qui se stiamo facendo un quaderno ad anelli e quindi ci servono i buchi. Andiamo a allargare, vedete che abbiamo questi buchi. Così vanno già bene, altrimenti abbiamo anche la distanza dei buchi e la posizione dei buchi. Un'altra cosa importante è la faccia, se è singola o no. Vi faccio vedere la differenza. Se andiamo su Rotazione e rotiamo la nostra facciata, vedete che qua è bianco, non ha l'immagine. Quindi è importante far entrare un'immagine anche qua se vogliamo sfogliare il nostro quaderno. Per farlo quindi andiamo su Side, Single Side, Yes or No. Quindi se mettiamo a 1 questa, vedete, ora non c'è, quindi andiamo a inserirla. Cioè deve essere su 0, così. Perché quando rotiamo la pagina non c'è l'immagine? Perché se torniamo sui nostri effetti, la prima immagine andrà qua, la seconda immagine, cioè la seconda pagina, andrà qua. Come facciamo a scrivere sulle pagine? Verrebbe da dire scrivo sul disegno e sono a posto, carico un secondo disegno con un'altra pagina o un'altra scritta e sono a posto. Ok, possiamo far così. Però così è molto limitato perché dovremo fare tante pagine quante sono le nostre scritte e soprattutto le nostre pagine. Andiamo a risolvere il problema in un altro modo. Allora, intanto sistemiamo una cosa. Avete visto che quando ruota la pagina, in realtà la pagina ruota centrale e non come ci si aspetterebbe che ruotasse qui. Quindi bisogna andare a regolare l'asse di rotazione, il cosiddetto pivot point. Premiamo F2 e vediamo questa croce. Adesso andiamo su centro di rotazione e spostiamo questo asse orizzontale. Vedete che vediamo questa freccetta e la portiamo qui proprio sul bordo. Ora se andiamo a ruotare, vediamo che la nostra pagina si comporta come una pagina e ruota su quell'asse e poi potremo aggiustarlo. Adesso premiamo F2 per non vedere più nulla. Dicevamo come facciamo a mettere qua dentro qualcosa nella pagina che ruoti assieme alla pagina. Usiamo delle color map. Delle color map sono delle aree dove noi possiamo preparare come fosse un'altra animazione e poi andarla a inserire qua dentro. Quindi facciamo livelli, aggiungi e facciamo aggiungi un livello color map. Questo livello color map non lo vedremo ma se premiamo F2 vedete che qua appare un new. In realtà questa è la color map. Lasciamo F2 attivo e andiamo qui. Vedete che è apparso questo livello 5 mappa colore color map che contiene questo, una telecamera, un punto luce e la scritta new. Allora stando sopra mappa colore clicchiamo qui e ricarichiamo la nostra pagina perché la pagina deve essere inserita all'interno di questa color map. Vuoi unirlo? Sì, vedete che è apparsa la nostra pagina qui. Prima cosa da fare è ridimensionare l'aspetto della color map che è rettangolare, adesso non si vede bene ma è rettangolare, alla dimensione della pagina. Allora prendiamo la telecamera e zoomiamo quanto più possibile sulla pagina, zoomando così vedete la portiamo il più possibile. Possiamo muovere anche con le frecce se vogliamo andare a inserire bene. Sulla mappa colore andiamo a aumentare questa seconda e la portiamo a 1024, invece questa la riduciamo, vedete, in maniera che si limiti a prendere sempre più questa pagina. Adesso state attenti cosa facciamo, prendiamo questa scritta new, coloriamola più scura, facciamo così, la coloriamo ad esempio di un marroncino, facciamo se volete un inchiostro blu, quello che volete. Mettiamoci questa mappa qui così andremo meglio a fare queste modifiche, quindi clicchiamo sulla nostra pagina, vedete che si è attivata, andiamo sugli effetti e qui invece di mettere l'immagine della pagina selezioniamo la nostra color map. Se ce n'è una sola la prenderà in automatico cliccando questo bottone, se avremo preparato più color map ci chiederà quale vogliamo, adesso non c'è problema, ce n'è solo una, clicchiamo e viene presa infatti color map 5, vedete. Facciamo ok e vedete che ora abbiamo la scritta qui, quindi torniamo dove c'è il nostro testo, lo mettiamo non solido ma lo mettiamo piatto, in maniera che sia una scritta piatta, e lo andiamo a posizionare sulla nostra pagina, quindi adesso dietro con il tasto destro del mouse possiamo spostarlo e vedete lo appoggiamo proprio alla pagina prima che sparisca. Andiamo sicuramente a regolare la dimensione del font perché rientri sulla pagina, eccolo qua. possiamo scegliere un nostro carattere, se ci piace di più avere un carattere diverso, più scritto o un carattere più moderno, insomma questo decidetelo voi, io faccio questo adesso tanto perché sia visibile, e qua scriviamo questo scritto è sulla pagina e qua potete scrivere tutto quello che desiderate. Andiamo a regolare bene la dimensione della mappa colore perché in realtà vedete che è più dentro, quindi aumentiamo qui la risoluzione e vedete che diminuendo qui, cioè portando il rapporto che c'era tra la pagina altezza e larghezza anche sulla mappa colore, la nostra pagina viene riempita bene. Bene, se andate male così potete mettervi un colore diverso di background invece che nero, usate ad esempio un colore così, ecco vedete che adesso si vede bene il bordo e se io muovo quella telecamera, ecco ora capite bene cosa sta succedendo, abbiamo la forma della nostra pagina che era data dal primo disegno e lo stiamo riempiendo con quello che è all'interno della color map, eccolo qua vedete che lo andiamo a spostare, se vogliamo spostare la scritta ovviamente possiamo entrare sulla scritta posizione e posizionarla sulla nostra pagina dove vogliamo, adesso tutto quello che avviene dentro la color map avviene anche sulla nostra pagina, ora guardate spegniamo con F2 sia la color map che tutte le coordinate del mondo e se andiamo a prendere questa pagina qui, basta cliccare sopra e andiamo a ruotarla vedrete che ruota con tutto il suo contenuto, avete visto, questo è il segreto, adesso qualsiasi cosa mettiamo all'interno della color map verrà sulla nostra pagina quindi anche foto, disegni, guardate facciamo una prova, andiamo all'interno della color map e vado ad aprire questa immagine qui quindi la unisco, vedete che è qua sopra, se premo F2 la vedrò anche all'interno della mia color map vado a prendere questa immagine, baby new, e la vado a rimpicciolire, vedete, la vado a posizionare sulla mia pagina attenzione davanti e dietro della pagina, che bisogna che sia così e come vedete, ora se vado a ruotare la mia pagina, che è sempre questa ricordatevi che potete rinominare i livelli e quindi scrivere pagina 1, ad esempio in questa maniera avete a colpo d'occhio dove è la vostra pagina, è questa qui facciamola ruotare e vedete che ruota tutto, la scritta e anche la foto come facciamo a riempire il dietro? nella stessa maniera qui, questa seconda trama, è il retro della nostra pagina se andiamo a selezionare una color map la stessa, perché non ne abbiamo altre adesso vedete che abbiamo fonte e retro la stessa identica cosa se vogliamo cambiare contenuto, come facciamo? andremo semplicemente a aggiungere un secondo livello di color map o anzi, facciamo prima a prendere il livello mappa colore 0,5 e fare duplica, in questa maniera sarà duplicato l'intero contenuto del livello a questo punto entrando dentro scriviamo pagina 2 questa sarà la pagina 1, perché ho visto che sto cambiando quell'altro andiamo a vedere, clicchiamo sulla nostra pagina e la ruotiamo vedete, adesso facciamo così, qui andiamo a selezionare l'altra color map vedete che adesso ci chiede? selezioniamo la seconda color map ok pagina 1, in realtà andiamo sulla nostra color map se premo F2, adesso vedete che vedo le due color map quindi entriamo in questa e scriviamo pagina 2 eccola qua posso anche andare a togliere l'immagine e cancellarla ecco così ho due pagine, come vedete qui, completamente diverse quindi clicco sulla mia pagina e la vado a ruotare ecco qua la prima facciata e la seconda facciata a questo punto è molto semplice se io voglio creare un quaderno con tante pagine a 0 che sia in posizione prendo questo livello e lo vado a duplicare e a questo punto ho una seconda pagina completamente indipendente, vedete, dalla prima se mi dite ma il contenuto è lo stesso certo, basterà a questo punto creare una terza e una quarta color map da andare a inserire qui e come faccio? vado su una color map come prima la duplico conviene sempre magari rinominarla quindi faccio proprietà del livello attivo scrivo terzo contenuto per esempio e adesso se premo F2 vedete che ho tre contenuti vado dentro terzo contenuto qui scrivo pagina 3 vedete che è venuto scritto qui e su questa faccia andrò a selezionare la color map terzo contenuto ok spegniamo F2 vedete che qui adesso è scritto pagina 3 stessa cosa sulla rotazione dovrò fare un'altra color map e inserirla qua dentro la tecnica spero si sia capita anche se sembra una cosa complessa non lo è e quindi cosa ci basterà fare prendere l'intera pagina qui portarla qua sotto spingerla un po' in profondità di qualche pixel in questa maniera prendendo la prima pagina e ruotando troveremo l'altra vedete stiamo costruendo proprio un libretto poi prendo questa la posso far ruotare e magari sotto ne metto un'altra ancora e così via e posso fare interi contenuti di libri se volete gli anelli qua ve lo faccio vedere sul prossimo tutorial così seguirete anche quello spero di essere stato chiaro troverete una pagina già pronta con le due color map sulla sezione appunto bluff title per gli abbonati abbonatevi perché avrete contenuti già pronti per andarli a analizzare e quindi imparare più velocemente grazie alla prossima ciao ciao